buonasera vedo che la vicenda city sta abbastanza appassionando no però avete letto quello che ha detto guardiola guardiola qualche mese fa di fronte i primi lontani sospetti aveva detto se mi hanno mentito questi dirigenti o me ne vado subito il giorno dopo insomma me ne vado adesso invece si è messo in chiara difesa della società manchester city e soprattutto ha manifestato la propria indignazione per l'atteggiamento degli altri club che vogliono punire il city tutti coesi compatti nel voler punire il manchester city e al contrario di quello che succede qua in italia non vedo coesione nel voler punire la juve evidentemente la si sentono tutti appunto puliti sono convinti di essere tutti puliti e quindi attaccano il city però guardiola cosa ha risposto ha risposto io di qua non mi muovo cento per cento ci difenderemo in questo momento non ci stanno dando la possibilità di difenderci ci difenderemo io resto qua se anche ci dovessero mandare in championship fatto bene uno a correggermi championship non premiership championship ok io resto e riporto la squadra su questo è parlare da davvero condottiero davvero capopopolo da un lato ma da persona anche devo dire responsabile da persona responsabile la persona che si è calata nella situazione che sente addosso questa questa maglia questi colori questa società e che quindi anche ovviamente qua si sta ipotizzando anche nell'ipotesi peggiore decide un pet guardiola decide di rimanere alla guida di una società ed eventualmente qualora dovesse trovare conferma l'ipotesi peggiore rimanere per riportarla su insomma un po come fece capello nel due no capello non aveva fatto così nel 2006 va beh ma dopo per carità adesso prendetela come battuta ironica ognuno è padrone di fare quello che vuole e ci mancherebbe altro capello ha avuto l'offerta del real madrid e quindi ha deciso di andare a real madrid insomma non è che ha mollato la juve per andare ad allenare la scafatello insomma l'ha richiesto real madrid e ha colto l'occasione tra l'altro per tornare perché se non sbaglio era la seconda volta che andava a real madrid se non vado errato adesso se sbaglio correggetemi ma mi sembra che fosse andata così e quindi forse la prima adesso qua perché perché balza vai a infilarti in queste giungle di ricordi sfocati in cui a non sta a b come b sta a c e c uguale ad a c e no vabbè comunque è andato a real madrid ripeto ognuno è padrone di fare le scelte che vuole e questo video non vuole andare assolutamente a parlare di fabio capello vuole dire che uno come per guardiola ha deciso già adesso nel caso nell'eventualità di andare di restare alla guida del del manchester city ora io lo so già cosa qualcuno sta pensando adesso cioè che se allegri dicesse la stessa cosa nel caso estremo in cui la juve dovesse essere mandata in serie b molti di voi saranno pensando no no speriamo che allegri non dica una roba così anzi è l'occasione giusta però non lo so non lo so anche perché allegri l'argomento non l'ha ancora trattato anzi lui continua a dire quando parla di questa penalizzazione di 15 punti momentaneamente momentaneamente la juve si trova con 15 punti in meno e quindi tra l'altro si avvicina insomma è il momento perché siamo al 10 di febbraio quindi ancora una ventina di giorni più o meno perché i primi di marzo è attesa la sentenza del collegio arbitrale del coni che non sarà composto da cesaro e a quanto altri a quanto sembra insomma sarà composto da altri membri la juve ha cambiato legale un legale che è stato consigliato da esperti diciamo così c'è stato questo incontro di calvo con la politica del calcio diciamo così un incontro che a quanto pare è andato anche piuttosto bene è sembrato molto cordiale però ragazzi cordiale non è che cioè non è che uno va e dice oh io sono venuto qua perché mi dovete dare mi dovete togliere i 15 punti no calma non funziona così c'è un giudizio da affrontare se un colloquio è cordiale può anche sentirsi dire cordialmente bene mi ha fatto piacere conoscerla però giustamente c'è una giustizia che deve fare il suo corso quindi deciderà il collegio arbitrale del coni questi sono incontri ragazzi che servono innanzitutto per un nuovo dirigente per conoscere e conoscere la politica del calcio conoscere i vertici del calcio perché evidentemente non aveva ancora avuto modo o non aveva avuto modo di farlo in questa veste shift qualcosa lì della juve ok ma non sono incontri per andare no per favore no ecco no perché già già si sente già si legge no che ecco è andato a lemosinare no è andato a lemosinare niente giustamente una società ha il dovere di mantenere dei buoni rapporti con i vertici di una federazione con i vertici di una lega eccetera e quindi ci sta che calvo sia andato a questo incontro di roma stop finisce qua perché dopo è un attimo no far combaciare le due cose perché guarda caso se fa una roba così da juve allora a proposito non è un braccialetto del napoli l'ho già detto altre volte e non è nemmeno un braccialetto dell'internet dell'atalanta né del pisa è il braccialetto di una palestra barra piscina di torino che frequento ogni tanto e siccome sono un ricoglionito e se lo metto via serve per far la doccia ok c'è un magnete per farlo e siccome se lo metto via poi soltamente ricoglionito che non mi ricordo dove l'ho messo lo perdo me lo tengo qua come bracciale fine non è napoli non c'è simbolo del napoli non c'è nient'altro giusto per chiudere il cerchio perché siamo passati dall'inter al napoli adesso insomma va bene anche perché milan non lo può assolutamente essere né juve ovviamente perché va bene dai chiuso il discorso non ci sarà altrimenti ragazzi eh non ci sarà altrimenti con la fiorentina le ultime indiscrezioni dicono di vlauvi c'è chiesa e quindi chiesa è visto come ehm alternativa di maria di maria è visto come alternativa di chiesa quando comincia uno finisce l'altro e viceversa lo so che tutti vorremmo vedere una juve col tridente con quei tre di davanti evidentemente non è ancora il momento perché occorre tanto sacrificio per fare quel tipo di gioco tanto sacrificio e quindi evidentemente allegri non ritiene che i tre siano pronti ad interagire eh tra di loro anche perché Vlauvić è rientrato da poco ehm chiesa a sua volta insomma si sta gradualmente riportando al massimo della forma di maria non è che ha bisogno questo gran numero di partite e quindi ci sta che sia da un punto di vista fisico perché è molto dispendioso sia da un punto di vista tecnico ci sia bisogno o tattico ci sia bisogno di fare altre prove altri esperimenti ma il tridente arriverà state sereni il tridente arriverà ok da qui alla fine della stagione e molto prima della fine della stagione arriverà fine basta così per oggi penso di aver dato tutto ci vediamo domani faremo magari un video pre conferenza stampa perché tanto qualche tema salterà fuori di sicuro e perdonatemi c'è un pochettino di di raffreddore ma va tutto bene e e poi ci sarà qui se facciamo doppio video prima della conferenza stampa e un post conferenza stampa domani sera anche numero di essere vi raccomando basta ciao buona sera